Musica Benvenuti in Arde qua MrDrakesa e oggi siamo qua in un nuovo video dove vi mostrerò uno dei 5 nuovi veicoli che verranno aggiunti nelle prossime settimane in GTA Online che è stato aggiunto tramite il DLC dello stante il veicolo in questione è il Vapid Contender, eccolo qui, è un SUV che assomiglia più a un pick up questo veicolo qua non avrà nessuna livrea ed è l'unico di questo DLC a non avere il livrei ha solo una modifica, ossia il tettuccio, quindi c'è la versione senza tettuccio che sarebbe questa e c'è la versione standard, ossia col tettuccio, eccola qui io sinceramente la preferisco senza, perciò lo lasciamo così quindi andiamo subito a testarlo nel nostro rettilineo ragazzi qua, pronti, partiamo l'accelerazione c'è, guardate, siamo già a 100 150, cioè l'accelerazione è velocissimo, sinceramente forse uno dei più veloci all'interno del gioco quasi 190 km orari velocità massima sì ecco, 190 km orari velocità massima per questo nostro veicolo quindi bene nerd per questo video è tutto, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un bel like commentate qua sotto scrivendomi se comprerete questo veicolo o meno mi raccomando andate a vedere anche gli altri veicoli che avranno aggiunti nelle prossime settimane vi lascio il link qua sotto in descrizione quindi bene nerd per questo video è tutto, ci siamo back al prossimo video bella